Volano gli stracci in Forza Italia all'indomani del risultato elettorale. Ad accendere la miccia all'interno del Partito Azzurro è stato il coordinatore di Castrovillari Roberto Senise, secondo il quale la scollatura tra i vertici e la base del movimento ha provocato una caduta dei consensi. Punta l'indice Senise in particolare sulla scelta dei leader regionali Roberto Occhiuto e Iole Santelli di sottrarsi al confronto diretto nei collegi uninominali. Oltre a proporzionale comunque un leader di partito avrebbe dovuto competere, quindi candidarsi al collegio uninominale probabilmente oltre allo tsunami dei 5 Stelle ha influito decisamente la formulazione delle liste. Io penso che Roberto Occhiuto su Cosenza decisamente avrebbe dato un valore aggiunto al collegio, quindi avrebbe spinto ancora di più. Le dichiarazioni di Senise hanno suscitato un vespaio di polemiche, ma avesse il dato della migliore performance a sud della Calabria rispetto al collegio Nord, la replica del coordinatore provinciale di Cosenza Luigi De Rose. Un partito in Calabria che riesce a raggiungere rispetto alla media nazionale la percentuale più alta d'Italia sicuramente è un successo per la classe dirigente di questo partito. Ci si lamenta di una riproposizione in chiave proporzionale degli stessi nominativi, di averli candidati anche nell'uninominale sarebbe significato questo, limitare gli spazi per altre forze in campo. Diverso è il discorso all'interno del proporzionale. È giusto che quella classe dirigente, parlo di Olesantelli e Roberto Occhiuto, fossero candidati come rappresentanti territoriali in tutti i collegi. Salvatore Bruno per la Cineus24